Salve a tutti ragazzi! Allora, oggi siamo su un nuovo episodio su The Marvel Future Fight. Benissimo, oggi spiegherò, anzi, vi dirò quali sono i personaggi consigliati per iniziare il gioco al meglio. Naturalmente non guardate questa schermata perché l'ho messa di presentazione, dato le bellezze di questi personaggi. Allora, andiamo su Universo Marvel. Eccoci qua. Vedete che sono divisi in categoria combattimento, esplosione, velocità e universale. Allora, mo' vi spiego anche questo giro qua. Combattimento è efficace contro velocità ed è meno efficace contro esplosione. Esplosione è efficace contro combattimento e meno con velocità. E velocità è efficace contro esplosione e meno con combattimento, naturalmente. Debole, queste sono le debolezze e i vantaggi. Invece gli universali sono i neutro, diciamo. C'hanno sia vantaggio su tutti e neutro su tutti gli altri. Però universali e universali sono come i Pokémon, dai. Di livello... Adesso non me ne viene in mente uno. Comunque andiamo avanti, dai. Allora, combattimento, ragazzi. Per iniziare, al meglio, il gioco vi darà la possibilità di fare un viaggio dell'eroe. Questo adesso, perché quando l'ho fatto io non c'era questi personaggi che sto dicendo, credo. Io ho fatto con Angela, quindi... Allora, vi dirò da scegliere tra Pugno d'Acciaio, War Machine e altri personaggi. Io vi consiglio subito, dato che siamo in combattimento, di prendere Pugno d'Acciaio. Perché a fascia 2, ragazzi, c'ha una passiva, aumento di schivata 35%, garantito. E tutte le probabilità di colpo al critico del 35%. E poi c'ha la sua leadership, velocità d'attacco, quelli così. Con questo costume, quello di, naturalmente, quello di Iron Force. La serie che sta facendo su Netflix, dovrebbe essere. Ragazzi, questo è Pugno d'Acciaio. Che tra l'altro, le sue biometrie, potete fare il viaggio dell'eroe con lui. Le biometrie le trovate lungo la storia. Come secondo, io ho iniziato con Groot. Però adesso vedo che c'è molta meno gente che lo usa. In pratica, Groot, comunque, c'ha la possibilità che lui rinasce. Quando muore, si rianima col 50% dei PV Max. Al massimo, se sempre dovrebbe essere. Le sue biometrie le trovate in frattura dimensionale. Come terzo, Hulkbuster, con il costume che c'ha, dovrebbe averci. Con la schivata, velocità tutta, meno d'ora, meno d'ora, passiva. Ecco, l'immunità e i danni per 5 secondi. E poi c'ha anche delle belle abilità che sono queste qua in sotto, numerate. Hulkbuster, questo per quanto riguarda il combattimento. E le sue biometrie le trovate, ragazzi, con la cassa dimensionale. Quindi sarà un po' più a rilento. Oppure con le biometrie che vi regala il gioco, giorno per giorno. Oppure con le biometrie che comprate nel negozio. Invece, come ultimo, dato che mi hanno detto che questo qui, Warwolf, ovvero Atidun, c'ha queste abilità che servono per gli altri, naturalmente le passive, che servono per tutti gli atti che gli mettete in squadra. Le sue biometrie le prendete come Hulkbuster, oppure le prendete anche con le battaglie temporali, con i gettoni delle battaglie temporali. Ogni vittoria vi dà 75 gettoni, che poi in futuro vedremo anche cosa sono le battaglie temporali e tutte le altre arene, diciamo, le altre modalità. E con mille... adesso vi faccio vedere, facciamo prima. Eccoci qua, entriamo subito. Arena, battaglia temporale. Ok. Negostoni. Eccolo qui, Warwolf. Vedete, con mille ne prendete, con 500 ne prendete tre. Con 2500 ne prendete 15, e con 5000 ne prendete 30. Ragazzi, questi qua sono i gettoni che si accumulano. Sono sempre consigli. Io vi dico quel che so per adesso. Allora, andiamo avanti. Di esplosione, ragazzi. Naturalmente... Charles Roger, naturalmente, ragazzi, io ce l'ho con quest'uniforme. Ce l'ho AT2. Ed è... cioè, la potete usare ovunque. Veramente, questa qua è il personaggio, diciamo, principale che serve di più, perché va bene, soprattutto di leadership, soprattutto di sieve, AT2, abilità. È fortissima, ragazzi. E la potete usare in tutte e tutte le modalità che ci sono sul gioco. Le sue biometrie, guardate, con la cassa dimensionale, ovvero come Hulkbuster, con le biometrie che vi danno da scegliere, il personaggio che volete, e tutto il resto. Poi, c'è, abbiamo Calabrone, che la posizione è identica. Ah, frattura dimensionale, è vero che l'hanno aggiunta. Non mi ricordo se c'era anche prima. Comunque, frattura dimensionale, che sono quelle fratture che si aprono ogni 30... Che puoi aprire, e durano 30 minuti, e puoi starci lì, in tante persone, a completare questa frattura. Sono sempre missioni normali, e prendete le fratture di Calabrone, quindi è ancora più facile. Poi, se volete, c'è anche delle missioni speciali, c'è anche Songbird, che me l'hanno consigliata. Io ancora devo portarla al massimo, quindi non so com'è precisamente. E le usate con le missioni speciali, vedete qua. Io faccio solo quelle lì di livello alto, perché vedete, è molto alta la probabilità delle volte, e me le dà anche 4 o 5 di biometrie. Bene. Adesso, di velocità, ah, scusate, dato che siamo in tema esplosione, Doctor Strange è il personaggio attualmente, ancora perché non ho provato Jean Grey, ancora perché nessuno l'ha detto, più forte del gioco. E Doctor Strange lo fa fare con la sua, diciamo, c'è un'impresa epica, posizione, vedete? Impresa epica, che è lunghissima, e ti fa consumare tanti materiali, quindi fatelo molto molto avanti quando avete sbloccato tutto quello che vi serve per fare tutte le modalità. Bene. Andiamo avanti, svelocità, e ragazzi, qui è un po' difficile, perché è velocità, ci lavoro poco io. Quindi ho chiesto consigli, naturalmente, al clan e sul forum, e mi hanno consigliato subito, occhio di falto, Kate Bishop, che si può usare soprattutto in battaglia alleanza, che è molto utile, ragazzi. E le sue biometrie si prendono con l'ultima missione di assedio criminale, oppure, nelle casse dimensionali, come Hulkbuster, come Sharon, come gli altri. Benissimo. Abbiamo come secondo personaggio da portare su, vediamo, Elsa, abbiamo, che è la posizione gettoni del caos. I gettoni del caos li trovi nella sedia criminale, naturalmente, ed è lo stesso procedimento che c'è da fare con Warwolf. Sarà sempre più lento degli altri, però, ragazzi, fidatevi che ne vale la pena. Non c'è l'errore che ho fatto io all'inizio di pensare sulle personaggi che mi piacevano di più, ovvero, come vedete, c'ho capitano americano al massimo, vabbè. È quasi molto inutile, però io cerco di sfruttarlo per quello che io ho buttato su. Bene, ragazzi, mi raccomando, usate solo i personaggi consigliati. Se volete andare al meglio, se volete sbloccare tutto tranquillamente, se volete... Naturalmente, questi personaggi che vi sto dicendo sono presi senza soldi, ovvero con le 20 biometri al giorno, che costa... dovrebbe costare 10 euro. Che si prende Carnage, che veramente è uno dei più forti di combattimento. La già mengente Venom, così. E niente, andiamo. Ah, mi hanno consigliato anche di usare... Che in battaglia alleanza ultima stanno usando molto Rogue. Io la sto portando su con l'altro personaggio, perché con questo qua non ce l'ho ancora. Cioè, dovrebbe... però ce l'ho ancora al basso, vedete? Allora. Universale, invece, ragazzi, prendete assolutamente Loki con questo costume che aumenta la durata... Dovrebbe essere... aumenta la durata del danno da gelo. Se non mi sbaglio, se non ricordo... Comunque, sì, dovrebbe essere quello. E ti fa congelare l'avversario, a parte che c'è l'abilità straordinaria. La sua posizione è la frattura dimensionale, naturalmente, ragazzi. Quindi non è semplice, perché una volta al giorno potete prendervi le 20 biometrie. Stessa cosa di Ronan. Ronan è utile, soprattutto per la leadership. Attacchi e difese di tutti gli eroi universali al 36%. Ed in alto più di 36%. Quindi adesso vi faccio un esempio. Se dovete usare... Se dovete combattere contro il boss, come faccio io, con una squadra... Ci sono tante squadre da usare, però... Con una squadra, la squadra consigliata... Ronan, Loki... Adesso vi faccio vedere anche... Dovrei avercela o no? Eccola qua, infatti. Ronan, Loki e Teschio Rosso. Ronan per la leadership. Loki e Teschio Rosso perché hanno questa bonus squadra. Aviti di poter attacchi, tutti, più 5%. E tempo di ricarica, il 4.8%. Perfetto, ragazzi. Questi sono i personaggi che vi consiglio io, senza soldi, naturalmente. Sono i personaggi che vi consiglio io e aiutati soprattutto dal forum. Mi raccomando, passate sotto questo forum perché lì ci saranno molti miei video. Ci sarà una sezione a parte, presto, spero, credo. Comunque con calma le cose vengono meglio. Ci sarà una sezione dedicata solo a me, al mio canale di YouTube, dove porterò tutto quello che riguarda questo gioco. Tutti i consigli, così, ragazzi, cresceremo insieme. Guardate, soprattutto sul forum, che ci sono molti, molte cose, molti suggerimenti, se volete andare a giocare solo perché i personaggi vi piacciono, ragazzi. Per esempio, io, Venom, lo poso su, seguendo il forum, tutto, seguendo il forum. E guardate, è uscito un bel personaggino, con il suo iso, senso di ragno, non mi ricordo se era questo nemmeno, comunque, vabbè. Che dire, ragazzi? Chiudiamo qua, il prossimo video sarà sui dieci personaggi più forti del gioco attualmente. Continuate ad stare con me. Passate di nuovo, vi dico di nuovo di passare nel forum. Alla prossima.